Paura nel pomeriggio a Cavarzere per il crollo del tetto di una palazzina Ather, due persone rimangono intrappolati in un appartamento, salvate dai vigili del fuoco, sono rimaste illese. Dopo solo due giorni è uscito dal carcere il 28enne tunisino arrestato per la spaccata al Piper di Zellarino, la rabbia e la delusione del titolare dell'enoteca, dobbiamo aspettare che ammazzi qualcuno. A Ceggia una bimba di quattro giorni è rimasta chiusa nell'auto forse per un malfunzionamento dell'impianto di chiusura centralizzata, l'allarme dei genitori e la corsa dei vigili del fuoco per liberarla. Decine di associazioni culturali, economiche di categoria sono state ascoltate dalla Commissione Unesco per stabilire se Venezia debba entrare nella lista dei siti a rischio del patrimonio mondiale dell'umanità. Un piano per riportare la residenzialità in comune di Venezia, il PD avvia un percorso di confronto e dibattito con la città in vista del programma elettorale per le prossime comunali. È stato fermato due volte in pochi giorni mentre caricava dei turisti a bordo della sua auto a Mestre per il tassista abusivo, ha scattato il sequestro del mezzo e multe per 25 mila euro. Alla Giudecola apre per la prima volta al pubblico l'ortogiardino della chiesa del Redentore, ci sono voluti tre anni di lavori e un investimento di quasi 6 milioni, messe a dimora circa 3 mila piante. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano con la tragedia sfiorata oggi a Cavarzere e terrore in una palazzina atera per il crollo del tetto. Sul posto i vigili del fuoco illese fortunatamente le persone che si trovavano all'interno. Erano da poco passate le 15 quando in via Chiara Rovelli a Bosco Chiaro di Cavarzere è parzialmente crollato il tetto di un appartamento di proprietà dell'Ater sviluppato su due livelli. Due persone sono rimaste bloccate all'interno a causa dei calcinacci finiti sul vano scala che impedivano l'uscita, ma non sono rimaste ferite. Sul posto, subito dopo le segnalazioni da parte dei vicini preoccupati per i rumori provocati dal crollo, sono arrivati i vigili del fuoco dalla centrale di Mestre con autogru e autoscala. Da Cavarzere e Adria che con una piattaforma aerea hanno reso possibile il salvataggio dei due occupanti. Successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'abitazione partendo proprio dalla rimozione dei detriti crollati. Tra le possibili cause un'infiltrazione. Dopo soli due giorni il 28enne tunisino arrestato per le spaccate al Piper di Zellarino è uscito dal carcere. Per lui obbligo di firma a Verona. La delusione del titolare dell'enoteca. Ero convinto che forse rimanesse in carcere. Purtroppo si continua ad avere questo tipo di attesamento nel sistema che non arrestano più nessuno. La delusione verso un sistema che non tutela, continua Daniele, è tanta. A due giorni dall'arresto del 28enne tunisino responsabile della spaccata ai danni del suo locale, il Piper di Zellarino, il giudice ha deciso di farlo uscire dal carcere. La punizione per i reati di danneggiamento avendo agito col tombino e resistenza all'arresto in flagranza sarà l'obbligo di firma. Il 28enne dovrà dunque presentarsi alle autorità ogni 24 ore e non lo farà a Venezia ma a Verona dove evidentemente è domiciliato. Tra l'altro l'uomo era già stato bloccato un mese fa dopo aver devastato la tabaccheria di Via Verdi, il ristorante ca dei Greci e l'osteria del lupo nero sempre a Mestre. Nei giorni scorsi Bigozzi rispondendo a chi sosteneva che tanto sarebbe uscito diceva di essere invece sicuro del contrario. Io quando ho detto i commenti due giorni fa prima del processo a qualcuno ho anche risposto guarda stavolta non è così, stavolta sono convinto che invece avevano ragione loro. Ha coinvolto una notte intera, decine di poliziotti per prenderlo e alla fine è a casa. Cosa deve fare uno? Deve aspettare che questo ammazzi qualcuno. La decisione rimane ma rimane non solo per me, ma anche per tutti gli operatori del settore. Insieme al 28enne è stato arrestato anche il suo connazionale di 46 anni che però resta in carcere per precedenti reati e a cui si possono ascrivere la maggior parte dei colpi messi a segno nelle ultime settimane. Il fatto è che comunque chiunque può fare quello che vuole, tanto non viene punito. Questo sicuramente se andrà a Verona delinquerello, perché è il suo modo superanto, deve vivere così, c'è gente che vive così, cioè è inutile. Se non cambia la legge Cartabia sarà sempre così. Non è colpa dei giudici, non è colpa del PM. Loro applicano quelle che sono le regole, quelle sono le norme, la legge. È la legge che è sbagliata. Attimi di paura. Questa mattina acceggia per una giovane copia di genitori. La loro bimba di quattro giorni è rimasta chiusa nell'auto per cause da accertare forse un malfunzionamento dell'impianto. Sta di fatto che è scattata la chiusura centralizzata con le chiavi all'interno della vettura. Mentre il papà tentava in vano di entrare attraverso il portellone del bagagliaio, la mamma, una 26enne di Vittorio Veneto, ha lanciato l'allarma ai vigili del fuoco giunti sul posto. Poco dopo, in breve, hanno aperto ed estratto la piccola che stava bene per tutto il tempo. La piccina ha sempre dormito. Quasi una trentina di associazioni culturali, economiche e di categorie professionali sono state ascoltate oggi dalla Commissione Unesco arrivata a Venezia per stabilire se la città debba entrare nella lista dei siti a rischio del patrimonio mondiale dell'umanità. Ogni volta che i commissari, gli advisory bodies fanno la loro relazione, arriva alla session annuale del World Heritage Committee che rappresenta gli ambasciatori dei 21 stati e questi 21 stati, oppla, voltano la questione e Venezia va benissimo. Venezia e la sua laguna sono un sito dell'umanità in pericolo? E cosa si sta facendo per preservare un territorio così fragile e un tessuto sociale ormai ridotto ai minimi storici? Da anni Venezia balla pericolosamente sull'orlo dell'ingresso nella lista nera dei siti patrimonio dell'umanità a rischio. Periodicamente una Commissione Unesco arriva in città per toccare come hanno problemi e progetti di soluzioni, ma mai come questa volta la Commissione ha ascoltato così tante associazioni professionali di categoria o di altro genere. Se l'intento è quello di mettere all'angolo, dietro la lavagna qualcuno, secondo me questo non è il modo corretto di interpretare la funzione dell'UNESCO. Si tratta invece di pesare come l'UNESCO possa essere a noi d'aiuto. Alla sede veneziana dell'UNESCO è l'occasione per poter dire finalmente ciò che si pensa della direzione che ha preso Venezia. Molto del tessuto culturale, sociale è stato perso grazie agli effetti dell'over turismo che induce a pensare che la città sia un terreno per investimenti ad alta redditività. Abbiamo portato le problematiche dello spospolamento del disagio abitativo, del grave disagio abitativo che viviamo in città. Questo a causa della mancata assegnazione delle case pubbliche, del fatto che sono lievitati i prezzi per il fatto delle affittanze turistiche. E poi c'è il motondoso e un traffico acqueo mai così intenso. Bisogna iniziare a fronteggiarlo a gamba tesa, quindi più controlli, ma soprattutto mettere in atto i sistemi di controllo da remoto per poter sanzionare chi effettivamente continua a non rispettare le regole. Tra i tanti associazioni e comitati, anche quelli sorti per problemi specifici di una determinata zona. La stazione ferroviaria che vorrebbero costruire nel Moro di Levante, che potrebbe essere a nostro avviso un indotto ulteriore per portare migliaia di turisti ancora nella zona. Sembra ci sia un progetto di 12 ettari di agrifotovoltaico in un'isola così delicata. Abbiamo messo un po' il problema all'evidenza dell'UNESCO. Ed intanto il direttore del Centro del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO ha risposto ad un dossier inviato da tutta la città insieme molto critico sulla situazione di Venezia. Intanto le opposizioni chiedono al Comune più trasparenza nei rapporti con l'Associazione delle Nazioni Unite. A poco più di un anno dal voto che a Riad la salvò dall'ingresso nella lista nera dei siti in pericolo, Venezia è nuovamente sotto esame dell'UNESCO. Ma a che punto ha il dibattito tra il Comune e l'Organizzazione delle Nazioni Unite? Il Partito Democratico lo chiede a sindaco e giunta in un'interrogazione a prima firma di Monica Sambo. In particolare, cosa c'è scritto nel piano di gestione chiesto dall'UNESCO e presentato da Caffarsetti il 7 giugno 2024. In Consiglio Comunale c'è chi il documento l'ha letto, ma chiedendolo al destinatario, non al mittente. Noi con un accesso agli atti li abbiamo avuti, ma non dal Comune, ma dall'UNESCO. Cioè la cosa incredibile è appunto la trasparenza che manca, è proprio questa, cioè sei costretto per avere un documento che tutta la cittadinanza dovrebbe avere a fare degli accessi agli atti e addirittura in questo caso l'accesso agli atti ti viene, la risposta ti arriva da UNESCO e non dal Comune. Cosa c'è scritto? Ma c'è scritto assolutamente che qua è tutto beissimo, cioè che tutto va bene e che la parola purtroppo più ricorrente è sostenibilità, perché tutti i progetti anche più devastanti, per esempio la torre di Viale San Marco, segue i principi della sostenibilità. Intanto tutta la città insieme ha ricevuto una lettera di risposta dal direttore del Centro del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO ad un dossier molto critico sulla situazione attuale di Venezia, inviato poco tempo fa. Ci ha fatto molto piacere perché significa che UNESCO recepisce, ascolta, in questo caso c'erano tante associazioni che controfirmavano il documento e ascolta un documento in cui si denunciano quelli che sono i progetti più devastanti relativi al nostro comune e quindi sia i progetti in gronda e quindi la devastazione della laguna ai progetti come il ticket che è un fallimento clamoroso e l'abbiamo dimostrato con i numeri che la stessa smart control room ci ha dato. Ed il PD veneziano ha avviato un percorso di confronto e dibattito con la città in vista del programma elettorale per le prossime elezioni comunali. Oramai accedere alla casa resta un miraggio per pochi anche per la presenza di un eccessivo numero di allocazioni turistiche, così il PD veneziano con Nicola Pellicani annuncia la proposta in materia che verrà presentata nei prossimi giorni. Il comune ha prodotto un regolamento che assomiglia molto più a un decalogo comportamentale piuttosto che a una disciplina per regolamentare un fenomeno ormai fuori controllo. Il PD nelle prossime settimane presenterà una sua proposta alternativa volta a trovare un punto di equilibrio tra fritti bevi e locazioni per residenti. E poi c'è la questione delle locazioni universitarie con il diritto allo studio. Ci sono circa 10.000 ragazzi che studiano qui e sono residenti qui, anche se non sono burocraticamente residenti, vivono qua come noi. La loro residenzialità non può essere garantita se non c'è un impegno in questo senso anche da parte della nostra amministrazione, da cui al momento non hanno modo di sentirsi rappresentati. La casa è un diritto, il tema con cui il PD veneziano ha dato avvio ai tavoli di lavoro in materia di patrimonio pubblico edilizio partendo dai bisogni delle famiglie con quello primario, la casa appunto. Il percorso che prevede la partecipazione di categorie, sindacati, associazioni e cittadini. Abbiamo scelto il tema della casa un diritto, uno dei temi fondamentali per questa città, sia per la città d'acqua ma anche per tutta la terraferma. Tassista abusivo scoperto a Mestre, per lui una sanzione pesantissima. Stava facendo salire a bordo alcuni turisti quando gli agenti che avevano ricevuto una segnalazione hanno deciso di fermarlo per un controllo bloccandolo nei pressi della stazione ferroviaria di Mestre. I loro sospetti erano corretti, il tassista non aveva alcuna licenza per operare, è stato sanzionato ma non gli è bastato. Per il trasporto dei viaggiatori infatti utilizzava la sua auto privata che è stata sottoposta a fermo amministrativo, ma nei giorni successivi è stato nuovamente sorpreso dalla polizia ferroviaria con la stessa auto, mentre offriva servizio di taxi ai turisti. In seguito al secondo episodio la macchina è stata confiscata, le sanzioni ammontano a 25 mila euro. La psicoterapeuta Verasle poi è morta per problemi cardiaci, conclusa la perizia del consulente che esclude definitivamente il giallo. La dottoressa Verasle poi è morta o per un'ischemia o per un'aritmia cardiaca in forma acuta, questo quello che ha stabilito l'autopsia eseguita su incarico della procura di Padova che aveva aperto un'inchiesta dopo l'esposto fatto dai familiari della psicoterapeuta che volevano chiarezza e verità sulla morte improvvisa della loro cara. La dottoressa Verasle poi, 70 anni, è morta improvvisamente lo scorso 21 giugno, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione di Padova dalla collaboratrice domestica. La sera prima aveva partecipato a una cena del Lions Club e anche nei giorni precedenti non aveva lamentato particolari problemi di salute. Un mese prima si era sottoposta a delle infiltrazioni per curare un problema al menisco. L'autopsia ha escluso che i farmaci prescritti abbiano avuto qualche ruolo nella morte della psicoterapeuta molto nota anche per il suo impegno politico. La morte dunque, secondo il medico legale, è stata determinata da problemi cardiaci. Il cuore della psicoterapeuta presentava delle variazioni di natura anatomica che hanno aumentato il rischio di morte improvvisa. I vigili del fuoco di Sandona di Piave sono in luto per la morte di Silvio Rossetto, conosciuto anche come Andreas. Una delle colonne del distaccamento del Basso Piave si è spento a 58 anni per una grave malattia. Rossetto lascia la moglie Daniela e i figli Sara, Luca e Giulio. I funerali si sono svolti oggi pomeriggio nella chiesa parrocchiale a Ponte di Piave, nel Trevigiano. Silvio infatti era originario di Salgareda. La sua passione era la campagna, la vita, il contatto con la natura e il meraviglioso paesaggio veneto che spesso descriveva con trasporto. Musicista e umorista con il nome di battaglia, Leo Luca Urlando. Fulvio Silvestri è titolare della storica edicola dell'Accademia di Venezia. Con questa tromba basta vendi i giornali invece di suonare la tromba. Non si vengono più i giornali, suonano la tromba. Da quando esiste questa edicola? Guarda quello che so io mio nonno la rilevò nel 1928, il comune per vari motivi quella volta ci disse fine ottocento, pare anni 60, 70 della fine dell'ottocento deve essere stata collocata a quanto pare dagli austriaci. Ovviamente avete visto diverse generazioni cambiare la città da qui. passavano veneziani, un continuo ciao Antonio, ciao Silvio, basta adesso passa sui stranieri. I giornali ne comprano? I giornali no, non ne comprano più. Con l'avvento di internet, tante cose sono sparite, nel mercato compresi i giornali cartacei. Ma arrivavo a, ricevevo per esempio 50 gazzettini, non ne vendevo 5, li rendevo, adesso mi arrivano 5 gazzettini, forse non ne rendo neanche uno. Le dicole come le vede nel futuro? La mia attività sarà solamente uno smercio di souvenir, senza dubbio, già adesso siamo lì. A Venezia si suppone 30 milioni di turisti che comprano cartoline, questo e quell'altro, sopravviviamo. Ma in giro per l'Italia, nei paesetti, qualcuno deve fare 10-20 km di auto per trovare una rivendita. Da quel che so io, leggendo un po' sui giornali, eravamo in 40.000 rivendite di edicole, negli ultimi anni sono state chiuse, a quanto pare ne sono rimaste 11-12.000, quindi per quanto mi riguarda mi ritengo fortunato ad avere l'edicola qui a Venezia. Ma i giornali, ahimè. Primo giorno di apertura oggi al pubblico per l'ortogiardino della Chiesa del Santissimo Redentore a Venezia. L'ortogiardino della Chiesa del Santissimo Redentore a Venezia, fino ad ora mai aperto al pubblico, rinasce grazie al restauro della Venice Garden Foundation, un recupero dal valore storico e conservativo che lo ha riportato alle antichi splendori di un tempo. Ci sono voluti tre anni di lavoro in un investimento di 5.700.000 Euro, come spiega la Presidente e fondatrice della Venice Garden Foundation, Adele Re Rebaudengo. Oggi il primo giorno d'apertura al pubblico dopo l'inaugurazione. Noi abbiamo creduto che aprire l'ortogiardino con le antiche officine e le cappelle di meditazione alla città fosse molto importante. Chi viene qui cosa trova? Trova un luogo che è ora come allora. Abbiamo voluto riproporre un restauro filologico. Quindi nell'ortogiardino troveremo il frutteto, i due grandi olivetti, i coltivi degli orti e l'apiario che servivano per il sostentamento. Sono state messe a dimora quasi 3.000 piante e l'ortogiardino del Redentore sarà aperto al pubblico ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 16.30 pagando un biglietto di ingresso. Ci sono gli alberi di alto fusto e poi invece ci sono anche i rampicanti, le rose e così via e le viti. Abbiamo messo a dimora tanti olivi ciagrandi e così via. Non vorrei dirli tutti perché vorrei che le persone venissero a scoprirli. Abbiamo trovato questo grande importo sia dal PNRR, per cui 2 milioni sono derivati dal PNRR, mentre gli altri 3 milioni 7 e 3 milioni 8 da mecenati illuminati e generosi. Realizzare progetti di questo tipo è necessario avere un grande consenso sia delle istituzioni e sia dei sostenitori. Lo sport ora calcio, clamorosa vittoria del Venezia che sotto di due reti al 24esimo rimonta e batte 3 a 2 l'Udinese al termine di una partita folle. Il Venezia va sotto in mezz'ora, riapre, poi pareggia ed inizia la ripresa con la pugnazione di Nicolussi, Caviglia e al 86esimo completa la rimonta con il secondo rigore del capitano. Ancora sport con una parata di stelle allo Iesolo Bike Festival 2024. L'undicesima edizione della pedalata con il campione ha concluso lo Iesolo Bike Festival inserito all'interno della Iesolo Bike Week. L'evento ha registrato molti iscritti che come ogni anno hanno popolato il piazzale del Kings Club da dove ha preso il via la ciclo storica. Questa volta la bandierina a scacchi è stata sventolata da Marco Villa, città della nazionale italiana. Prima di partire per gli 80 chilometri previsti i partecipanti hanno anche avuto l'opportunità di chiacchierare con il tre volte campione del mondo Oscar Freire, ospite d'onore dell'evento. È sempre bello, per me è un'esperienza anche essere qua in Italia, perché da tanto tempo che non ho pedalato qua in Italia, perché alla fine ho corso tanto, ma su questa zona penso che mai. In Veneto qualche volta, ma su questa parte qua sarà la prima volta, allora è una bella esperienza. Tra gli altri presenti è anche Fondri e Steballan. È stato veramente bello, perché andare sugli argini dei fiumi, dei torrenti, in mezzo alla laguna, con un po' di foschia, è stato molto molto bello. È bello vedere i campioni del mondo, ma soprattutto anche i campioni del mondo che avevo un po' perso, perché Oscar Freire ha qualche anno che non lo vedevo. Sì, c'è tanta passione, tanti eventi, quindi è un evento molto bello. Ed era questo l'ultimo servizio. Io vi ringrazio per essere stati con noi, subito dopo la sigla, le previsioni del tempo, con il nostro meteo. Arrivederci.